E' necessario fare chiarezza sulle voci circolate in questi giorni che hanno visto la mia persona sempre all'attenzione delle cronache locali, quale sicuro uscente dall'aggiunta comunale. Va diritto al punto l'assessore uscente alle politiche sociali del comune di Nocera, inferiore Gianfranco Trotta, attraverso un comunicato stampa dove ripercorre in primis i suoi passi. E' stato un periodo difficile caratterizzato agli inizi da un ufficio di piano allo sbando senza risorse umane e con una necessità di riorganizzazione nel corso del quale ho rivolto sempre lo sguardo alle fasce deboli della nostra comunità ed ho spinto in modo deciso e convinto affinché vi fosse un cambio di rotta che consentisse di attuare sempre maggiori servizi. Trotta non manca poi di esprimersi sulla rimodulazione dell'aggiunta non nascondendo un pizzico di amarezza. Ho assistito al cambio di giunta senza essere stato nemmeno interpellato sul punto e con modalità e tempi discutibili ma lascia in eredità una programmazione sociale pronta, definita nell'ultimo coordinamento istituzionale dopo un'opera di messa in ordine dei conti e di risistemazione totale dell'ufficio di piano. Servizi di sostegno alla genialità, servizi socioeducativi per minori, potenziamento dell'affido familiare e dei servizi residenziali per minori, riprogrammazione del POM, inclusione con l'ideazione del Polo per la Famiglia, il mio sogno con tante figure specializzate, alcune delle opere messe in campo. Abbiamo un centro polifunzionale disabili perfettamente funzionante, così come il centro anziani ed abbiamo riattivato il centro minori. Tutto questo continua Trotta operando in piena bufera, mentre venivo colpito da critiche strumentali, ricevendo false ed apparenti forme di tutela. In tutto questo non posso non constatare che da questa nuova giunta, decisa unilateralmente dal sindaco, esce fortemente ridimensionato il Partito Democratico, sterilizzato agli occhi della città, con la perdita di una rappresentanza, a vantaggio di un esecutivo totalmente a pannaggio del primo cittadino, a dimostrazione che la politica in città è ormai cosa superata. Una giunta tecnica varata incautamente in occasione delle imminenti elezioni regionali, quasi a svincolarsi da ogni etichetta politica, probabilmente finalizzata a valutare futuri e convenienti approdi. Il mio impegno politico, continua Trotta, continua con maggiore entusiasmo, ma con la consapevolezza che è difficile condividere percorsi con chi, in pieno spregio delle decisioni collegiali assunte con un documento sottoscritto che andava in ben altra direzione, si piega ai diktat di un uomo singolo, rendendo l'organo decisionale del Partito un contenitore vuoto.